in questo nuovissimo video di minecraft oggi ci troviamo qua per fare cosa oggi andremo a costruire un se posso chiamarlo mortaio nel mio mondo di minecraft ho pulito tutto l'inventario e ho preparato il corrente qua vabbè ci sono delle cavolate questa è la cesta che ci serve a noi oggi ci servono quattro blocchi quattro pistoni quattro blocchi di slime quattro otti per i denti potete prenderne anche di più comparatori ripetitori e tosce di edson non conoscevo bene la misura quindi l'ho fatto un po casissimo ma in teoria dovremmo iniziare sto guardando un signore che fa sto video e già partiamo male perché io mi scordo io che mi scordo il piccone è una cosa proprio sto soltando a un infinito vabbè fa niente perfetto così piazziamo ottimo veramente ottimo piazziamo uno due tre e quattro facciamo ne tre dai tre secondo me è meglio no quattro voglio che siano devo piazzarvi bene però quattro dopo gli slime sopra uno due tre e quattro perfetto adesso dobbiamo fare la cosa più importante piazzarci i tre i denti quindi magari se ho qualche blocco nel mio inventario sarebbe comodo perfetto ti blocchierò procediamo a piazzare i tre i denti quindi uno due tre e quattro saliamo e ne piazziamo uno di qua due di qua tre di qua e il quarto dovrà no ho perso il quarto scusa e il quarto qua va bene e il quarto di là perfetto abbiamo il quattro tra i denti pronti adesso inizio le cose che io ah cavolo è un problema però questo che mi riaccoglie cavolo questo è un problema proviamo a ripiazzarlo di là e questo va di qua non avviciniamoci troppo ai tre i denti che se no mi riaccoglie cerchiamo di non avviciniamoci esageratamente adesso guardiamo sto signore che costruisce vediamo piazza vai tra i denti così potete piazzarne anche di più ovviamente dopo il signore cosa sta facendo piazza la redstone la redstone perfetto quindi così uno due e va avanti in questo modo per ogni cosa prosegue deve essere bravo questo signore perfetto dopo cosa fa ah c'è un ah va avanti in questo modo di quanto di due due sono c'è sei due due perfetto dopo piazza un comparatore no aspetta aspetta no sto capendo scusatemi ragazzi il signore è buggato non ok piazza fa un clock fa un clock in questo modo ne piazza uno così dopo un altro così dopo dovrebbe piazzare un altro così e un altro così a quanti tick tutti al massimo dei tic dei tic in teoria sì quindi andiamo avanti perfetto proseguiamo rimane l'ultima redstone così e adesso in teoria dovrebbe avvenire la magia perché il nostro mortale dovrebbe essere completato mamma mia funziona incredibile no ho sbagliato ho buggato tutto scusa ho buggato tutto no 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 aspettate 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 no ho buggato tutto ho buggato tutto i pistoni sono morti mamma sono andati male ma malissimo no 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 aspettiamo riproviamo 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 non ci avveniamo noi no non ci avveniamo non voglio perdere questa cosa no perché veramente mi sto impegnando tanto per fare questo mortale quindi devo prendere questo mettere così redstone di qua disattiviamo tutto il circuito che magari è meglio ma è tutto attivato va fa niente devo spaccare un coso di redstone allora si devo spaccare un coso adesso si è disattivato ah perché ho spaccato vabbè la redstone ovviamente perdonatemi ma devo settare il giorno perché sennò veramente non vedete una ceppa di ceppa ottimo adesso slime uno due signora pecora qua si stanno facendo macchine mortali tre quattro tre denti saliamo ok così ok così uno due tre e il quarto è qua e quattro perfetto spacchiamo tutto cerchiamo di non riprendere i tre denti e in teoria se faccio così dopo devo piazzare la torcia qua parte e dopo devo fare così no ah ragazzi sapete che mi sarei sbagliato non so se usava i pistoni appiccicosi eh sì ragazzi usava i pistoni appiccicosi questo signore perfetto sono riuscito a prendere questi pistoni non ce l'avevo scommesso nemmeno io e ho perso un tre dente voi avete capito come funziona il meccanismo quindi è molto semplice per voi ma è molto complicato per me da fare come cosa devo rompere il meccanismo e non parte più di vai perfetto perfetto se ci posso così no non mi raccoglie perfetto poi meno male che ce li abbiamo riutilizzeremo in diversi modi questi pistoni hai dei dei mortaglia casissimi però comunque mi sa che ragazzi questo è un problema dobbiamo rifare la costruzione in questo modo per piazzare i pistoni così così andiamo design block ecco fossi un performance no io li piazzo male questi design block che mi odiano ma fa niente rompiamo sta pietra malata e adesso vediamo se funzionerà questo meccanismo se funziona ma se funziona io veramente esplodo qualcosa spero che funzioni così uno andato due andati incredibile prendiamo il terzo e il quarto è già assurdo che io abbia un po' di mila con questi cosi ma vabbè rompiamo tutta la pietra adesso non ci resta che avviare il nostro meccanismo spero che funzioni spero veramente che funzioni perché ci ho messo tanto a farlo no 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 non funziona come non funziona no scusate zoom no 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 come fa a non funzionare e però adesso dovrebbe partire in automatico perché qua è impostato tutto bene bello abbiamo fallito abbiamo fallito la missione riproviamo in un altro modo magari modificando la velocità dei tic proviamo però avete capito il meccanismo com'è no che partono in aria ed è veramente figo però non funziona c'è qualcosa che non va abbiamo un problema come lo risolvo non lo so perché il signore non ha aumentato la velocità dei tic l'ha tenuta a tempo è brutta basica noiosa ok quindi è così il meccanismo ci siamo tutto la velocità dei tic è questa vediamo un po' come va avanti sto signore per favore ah no 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 scherzavo no 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 calmo devi stare calmo signore ah ok 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 allora in teoria questo è così questo cos'ha e gli altri due così vediamo dimmi di sì e dopo voi come lo avvia il meccanismo vediamo signore ah l'avvia e la spacca subito la toy la mette e la spacca subito sì ce l'abbiamo l'abbiamo fatto questo è il mortaio su minecraft ha funzionato che bello il mortaio su minecraft ovviamente non fa danno a nessuno non è stato creato per fare danno a qualcuno ma è bellissimo è troppo bello non poteva non esserci sul mio mondo di minecraft guardate che costruzione proseguo stai curioso di sapere se infligge danno vediamo cosa mi offri l'arma di sicuro me lo prendo io cioè questo è sicuro che ne dici che ne dici amico ti piazzo le tocce di Edson a caso ti ho colpito per sbagliare scusami frattano ok uno smerardo per tre blocchi di corallo viola due smerardi per i cetaioli sinceramente io sono molto produttivo e mi prendo questo perfetto abbiamo preso due semi di barbabietra per avviare le nostre prime coltivazioni questo rumore è un po' è anche grande però vabbè ce ne faremo una ragione però adesso no è troppo soddisfacente come meccanismo è bellissimo guarda qua ma che roba è l'infinito sta cosa si penso di si guarda qua che bello che bello che bello osserviamolo osserviamolo dall'alto osserviamolo dall'alto con i blocchi di pietra andiamo andiamo dall'alto osserviamolo dall'alto perchè secondo me vale mi vale la pena osservarlo dall'alto guardate guardate tutto il meccanismo automatico in azione guardate che bello e io se qua cado faccio una brutta fine guarda qua il rumore è tutto silenziato è andato ma vabbè ma ragazzi che dire spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina se volete vedere altri miei video e che dire ci vediamo alla prossima